Il 6 agosto a Marina di Gioiosa Ionica, nel lungomare Cristoforo Colombo, Rione Marinari, torna la gustosissima Sagra del Pesce. La Proloco per Gioiosa Marina ti invita alla sedicesima edizione, tra alici fritte, marinate e ripiene, sarde arrostite, zeppole e la tipica mullicata. Ad aglietare la serata per il circuito di spettacoli RGM Events, distribuito da Radio Gioiosa Marina, spettacolare concerto del gruppo di musica etnica Sud Danza. Ti aspettiamo! Stamu morendu di la purvarata Fati rota, fati rota Stamu morendu di la purvarata